Ciao ragazzi sono Crax, bentornati su Clash Royale ed eccoci qua tornati nel mio account principale quest'oggi con un big episodio shopping, esatto Siamo tornati nello shopping, questa serie vi piace tantissimo, l'ho supportato un sacco, andremo a shoppare 4 nuove emoticon a 3,50€ Tra poco le scopriamo insieme, prima di tutto vi chiedo di seguire tutto il video perché giocheremo in ladder, sono a 5.299 coppe Faremo 3 battaglie per utilizzare le emoticon e le voglio assolutamente vincere, succederà il panico Seconda cosa, numero importante, mi raccomando lasciate subito un bel pollicione all'inizio di supporto Se volete domani sul canale l'apertura del baule costruibile, del mio baule costruibile di fine stagione Ancora non so con quante coppie chiuderò la stagione, spero 5.500, mancano meno di 24 ore nel momento in cui sto registrando questo video Ce la metterò tutta, conto su di voi 10.000 like anche per far continuare questa serie shopping, grazie a tutti per il supporto Vamos raga, subito con lo shop cattivissimi, negozio, eccole qua Le 4 provocazioni secondo me più belle, nello stile femminile Per quanto riguarda invece la classifica generale delle emoticon, per quanto mi riguarda le metto al terzo posto Dopo i domatori ovviamente e i 4 scheletrini, queste 4 sono spettacolari Al terzo posto abbiamo la principessa che manda i cuoricini, il bacino con il cuoricino Principessa rage che abbiamo anche nelle emoticon degli abbonati Principessa pollicione all'insù e principessa che fischietta Sono fantastiche, le vado a shoppare con 3,50 euro, le imposto e le giochiamo in battaglia Vamos raga, vamos con lo shop, ci clicco Oh yes, acquisto avvenuto con successo Dammi la notifica, dammi la notifica, sta laggando, ci sta mettendo una vita Perché non la dà? Cioè mi si è buggato lo shopping? Ma io non ci voglio credere Clash Royale sveglia! Ok, finalmente ce l'ho fatta Ci ha messo 3 ore però, azione completata, acquisto effettuato correttamente Andiamo a cliccare ok e le abbiamo tutte e 4 Quante ne mancano? Voglio un attimo conteggiarle Ce ne mancano altre 5, quindi un totale di esattamente 17,50 euro, credo di sì Le andiamo ad impostare tutte e 4, nuove, fantastiche Mettiamo quella con i pollicioni all'insù No, ok, già ho sbagliato Quella con i pollicioni all'insù al posto del barbaro che urla Quella che fischietta al posto del goblin che va a fuoco Quella che sta arrabbiata al posto di quello che piange Ed infine quella con il bacino al posto del goblin con il bacino 4 emoticon carinissime 3, 2, 1, andiamo a perdere Trofei, sono carichissimo regà Voglio vincere le battaglie Lucky, spero di essere fortunato io Olè, domatore di prima mano Andiamo subito con il domatore sulla parte di sinistra Lui ha meno coppe di me Livello 13, mago di ghiaccio Ok, questo ha capito il bilanciamento Già lo sta utilizzando Un mago di ghiaccio che diventerà una vera e propria spina nel fianco nei deck Anche perché rallenterà 2,5 Cioè le truppe andranno pianissimo Distrutto il mago di ghiaccio Abbiamo gli arcerini dietro Va di principessa Prova a mettere la tronco È un po' rischiosa la tronco Però se mi permette di mandare qualche freccia da parte degli arcerini Va benissimo Messi i pistrelli in difesa su lorda di scheletri Anche questa verrà potenziata Sto utilizzando tutte carte che verranno potenziate Anzi, se non erro quando uscirà quest'episodio Saranno già tutte potenziate Occhio al bombarolo Ho sbagliato Mi sa che mi prendo una bombetta Bravo Grax, complimenti Hai fatto una pollata assurda Cavaliere da dietro contro il mago Lui di sicuro andrà a rimettere Un'altra volta la goblin gang No Mi piazza la principessa Ci vado di palla di fire Se mette la goblin gang Prova a pushare con il domatore Io ci provo comunque Vado di tronco Ti prego Bellissima la tronco Tronco geniale Domatore a torre Arriva la tornato Forse rimangono gli arcerini No, ma il domatore fa un altro hit Les Ghere Top giocata per noi Non riesco a capire Che tipo di mazzo possa mai avere questo Manca il bariletto Credo OMG OMG Ma questo sta fuori di testa Non ci voglio mai credere Mi serve subito una fireball Magari con l'arcerino riusciamo a farla andare giù È andata giù Ci prendiamo solamente il rantolo di morte Non mi aspettavo mai nella vita La mongolfiera Per fortuna che ci ho fatto caso Perché sono ragazzuoli Erano veramente piselli senza zucchero Cavaliere difensivo Devo togliere assolutamente il mago di ghiaccio Vorrei mettere un'altra fireball Ma non mi conviene per il momento Mi conviene fare di questo Tronco tattico Andare con un domatore Uh, ok In un'altra volta Super giocata per lui Devo cercare di indebolire il prima possibile la mongolfiera O anche i pipistrelli Il domatore ci prende la torre I pipistrelli non dovrebbero far itare la mongolfiera No, ha itato Ma stiamo comunque in super vantaggio Ce la stiamo giocando molto molto bene Non vado di tronco Non mi conviene Mi conviene mettere un cavaliere difensivo Immediatamente altri arcieri Un cannoncino Tronco adesso Ragazzuoli Prima vittoria Siamo partiti al top Contro un deck particolare Però queste coppe saranno fondamentali Per la scalata Più 29 Facciamo su E non ho giocato l'emoticon Ma allora Crax Cioè hai un bug mentale Entri talmente tanto nella partita E ti dimentichi di mettere l'emoticon Sono un pollo clamoroso Adesso le utilizzo Adesso Cioè che non ho l'abitudine di utilizzarle Di solito metto solamente flex Le ho anche disattivate tra l'altro Le attiviamo E vamos con la principessa In rage mod Questa mano iniziale Non mi piace La cosa che mi piace È che il nostro avversario È un livello 12 Tanta roba Arcerini splittati da dietro Perché lui non sta mettendo niente Potrei anche pushare Anche lui mette gli arcerini Con calma Con calma Con calma Splittiamo i pipistrelli Sono curioso di vedere il deck Di questo avversario Da un bel po' Uuuuh Subito il sassolone Peccato che l'arciere Abbia targettato il mio arciere Però il mio domatore Comunque Sta a torre Forse 3 hit Li fa Puliti puliti Quasi 4 Ci accontentiamo di 3 hit Torre a 2194 Il mega sgherro Essendo all'altra parte Non ci darà grossissimi problemi L'importante è riuscire a difendere Quella night witch Con gli arcerini Cosa che purtroppo Non sono riuscito a fare Ma con la fireball si Con la fireball Le sghere Riesca a togliere tutto Il golem sta a torre Ci fa un bel po' di hit Bellissimi gli arcerini Ha messo degli arcerini Veramente top Qui l'ho giocata male io ragazzi Qui l'ho giocata veramente male io Riesca a pushbackare il golem Mi prende la torre Giocata malissimo ragazzi Ho giocato malissimo I pipistrelli sprecati praticamente Non avevano assolutamente senso lì Male male Partita totalmente in salita Gli facciamo un pollicione all'inizio Se li merita Domatore sulla destra Ha messo anche un estrattore Questa partita ragazzi L'ho straversa Il domatore qualche hit ce l'ha fatto La fireball va sull'estrattore Che cosa andiamo a fare? Dobbiamo cercare di fare più danni possibili Perché lui altrimenti ci riparte con il golem Ma non ho la rotazione giusta Sto giocando male Sono messo molto molto male Cavaliere messo Magari proviamo ad andare Sulla parte di sinistra In modo tale da fargli sprecare Più roba possibile Ma questo non spreca Questo non spreca Questo sa giocare di brutto ragazzi Peccato 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 Potevo giocarmela sinceramente Molto molto meglio La fireball è buona Perché riesco a prendere tutto Aveva addirittura la fulmine Mi servono i pipistrelli Per deviare il mega sgherro Qualche pipistrello Magari vado con un domatore sulla destra Devo dire che Non siamo andati poi così tanto male Qualche hit lo strappiamo Forse anche due Buono regà Fermi che ancora non è detto Fermi che ancora non è detta l'ultima Possiamo ancora pushare 23 secondi Andrei sempre sulla destra Ho la fireball Ho il cavaliere Arrivano le frecce buonissime Il domatore credo che due hit Li faccia almeno uno Uno l'ha fatto Le sghere Non ha il mana per mettere il golem Non può averlo mai nella vita L'ha messo Eh l'ha messo E l'ha messo molto molto pesante Abbiamo perso Vabbè L'abbiamo persa sul 2 a 1 Sono contento Va benissimo così Gli facciamo la principessina Che fischietta E quella arrabbiata Complimenti Partita incredibile Giocata male da parte mia Ne facciamo subito un'altra Vittoria sconfitta Vittoria sconfitta Dovrebbe essere una vittoria Spero Tra l'altro siamo anche a 5.300 Quindi abbiamo fatto un più 1 Molto molto bene Altra partita Belli potenti Voglio un easy win Contro Fesh Draho Non lo so Boh Un nick impronunciabile Altro livello 12 Che cosa sta succedendo Domatore sulla sinistra Mega sgherro 3 hit Fatti Puliti Nice Scheletrini da dietro Cerchiamo di deviare Ma il gioco lo fa apposta allora Ma il gioco è così crudele Da farlo apposta È lo stesso deck di prima Cioè sono contro Lo stesso deck di prima E io ora non posso busciare Cioè potrei magari Fare qualche hit Sulla torre di destra Ma non mi conviene Ah addirittura la tornata Questo è peggio di prima ragazzi Questo è un deck Molto molto più forte di prima Riesco a mettere Un cavaliere difensivo Spero che il drago si gira No Non si gira Ma nella vita Mai il drago Viene targhettato Dalla mia torre degli arcieri E il domatore sta colpendo La torre Ottimo per noi Bellissima giocata per noi Abbiamo un cavaliere Che sta indebolendo I golemiti Scheletrini difensivi Siamo ancora in partita Questa volta sì Questa volta Ce la stiamo giocando Ma ho paura Della tornato Devo cercare subito Uh Ancora ragazzi Ancora Bella giocata per lui Non so sinceramente Cosa fare Provo a mettere Anzi Provo a fare un push Dall'altra parte Regà Io provo ad azzardare Una mossa del genere Non so quanto possa avere effetto Ma se riesco A fare degli hit Importanti La cosa positiva È andato giù il drago Attenzione che il drago È andato giù E i pipistrelli Vengono fatti fuori Dalla torre degli arcieri Non è che siamo messi malissimo Devo essere sincero Se il golem non scoppia a torre Forse ci sta bene un tronco Eh infatti sì Avrei dovuto mettere Un bel tronco Non l'ho fatto E me ne pento Subito pipistrelli Sulla sinistra Credo che sia arrivato Il momento Di mettere Un domatore Aspettare che Il mega sgherro Venga deviato E andare magari Con una fireball Perché la tornata è vero Ci voglio mai credere Regà Ho sbagliato un'altra volta Spero che lui Non abbia l'elisir Cioè non può avere l'elisir Uuuuh Che botta che vu pres Che botta che vu pres Fireball tattica Mi serve una botta Torre domatore L'ha fatta regà Ha sprecato anche il tronco 32 secondi L'unico problema È che c'è un pipistrello Che mi prende la torre Male 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 Ragazzuoli Male 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 24 secondi Domatore sulla destra Dobbiamo fare tutti gli hit Necessari per poter Prendere la torre Ma ragazzi La vedo molto molto Complicata questa partita Alla tornato Il domatore non arriverà Mai a torre Forse ne fa un altro Ne ha fatto un altro Le sghere E dobbiamo solo difendere Solo tra virgolette Difendere Quel golem Pesantissimo Un modo ci sarà Secondo me sì Arriva la tornato Ci deve essere un modo Ragazzi Non ce la faremo mai Regà Non ce la faremo mai Male 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 Due volte il gioco Ci ha fatto perdere Contro il golem E niente È andata così ragazzuoli Tra l'altro Meno 33 Grazie Grazie Di cuore Ci voglio credere Siamo tornati abbastanza bassi Abbiamo il baule Della corona Vamos con l'apertura Rifacciamoci con questo Super baule Della corona 1049 di oro 3 gemme Wow Un estrattore Spettacolo Mortaio Frecce E 11 valcheria Cari amici Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo come sempre Di lasciare un bel pollicione All'inizio di supporto Se volete subito Domani L'apertura Del baule costruibile Commentino qui sotto Passate nelle schede Sicuramente ci sarà Un sondaggio Riguardante le modicon Noi ci vediamo domani Appunto con Clash Royale Un saluto Un abbraccio a Grax Buona domenica a tutti Buon lunedì a tutti Grax oggi è domenica Domani sarà lunedì Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao